Ciao a tutti, bentornati nel nostro canale Adesso vi spiegheremo come si fa la... La rottata Ok, ma prima presentati Mi chiamo Elena E quanti anni hai? Sì, sette Sette, ok Partiamo con il primo passaggio che è... Il primo passaggio è sottopare la ruota Adesso andiamo a fare una ruota veloce Cercando di arrivare con i piedi vicini Adesso proviamo a fare la ruota con l'arrivo a un grassone da 40 con la pancia Con l'arrivo bello duro Brava Poi proviamo ad arrivare in ginocchio In questo passaggio proviamo a spingere con le paccine per fare la corbette da un passaggio più alto, da un materasso più alto a uno più basso Si può fare sul tumbling, si può fare anche su una pedana E adesso proviamo a fare la ronda di cottura dei piedini scavalcando uno statolo Noi in questo caso abbiamo un petto di tappeto Dopo di fare questo passaggio possiamo provare a fare rincorsa, presalto che sapranno già fare e rondata completa Ok, dai, facciamo il presalto di uno Ciao, ci vedremo nel prossimo video